Dopo il successo di pubblico a Roma, Buenos Aires, Mantova, Catania e Matera, la grande mostra luce e l'immaginario italiano arriva a Napoli, ospitata al convento di San Domenico Maggiore dal 9 novembre all'11 marzo. L'esposizione racconta la storia dell'Istituto Luce dalla sua fondazione nel 1924 ad oggi, con il suo deposito materiale di memorie, segreti e sogni dell'Italia del XX secolo e oltre. La sezione finale è dedicata proprio alla città di Napoli, con un'esposizione di fotoimmagini d'archivio dagli anni venti fino ai tempi nostri, che raccontano l'evoluzione della città dal punto di vista sociale, ma anche storico e artistico. In mostra anche le immagini del 1938 del viaggio di Hitler a Napoli, su invito di Mussolini. L'idea è nata nel novantesimo anniversario della fondazione dell'Istituto Luce, quando nel 2014 al Vittoriano di Roma abbiamo fatto la mostra L'immaginario italiano. L'idea su cui si basa è raccontare la storia d'Italia, ma anche gli italiani e la loro trasformazione. Noi cerchiamo in ogni modo di creare la più larga diffusione di materiale luce e non relegarlo al solo periodo del fascismo. Per fortuna, chi è venuto anche prima di me non ha buttato il bambino con l'acqua sporca, ha continuato ad acquisire fondi per cui noi riusciamo a raccontare cento anni di storia italiana, ma non solo la storia con la S maiuscola, anche quella appunto del sviluppo industriale, della cultura e soprattutto della trasformazione degli italiani a seconda della trasformazione del paese. Andare in luoghi, Napoli in primis, perché penso che Napoli sia un palcoscenico mondiale, senza togliere nessun merito alle altre città, ma Napoli nell'immaginario italiano si colloca in un posto da protagonista, e poter raccontare anche un pezzo della storia dei paesi e delle città dove noi portiamo questa mostra è il valore aggiunto, quello a cui noi teniamo di più. C'è un corpo centrale di questa mostra che racconta un po' la storia dell'Italia nel tutto il Novecento. Poi nelle varie città dove è stata proposta, a partire da Roma a Buenos Aires, a Mantua, a Catania, a Matera, adesso a Napoli, c'è una sezione dedicata soltanto alla città ospitante, che fa un approfondimento sui temi che sono della mostra, ma allo stesso tempo anche che trovano riscontro nell'archivio storico a luce.